Ciao, io sono Stefano, studio al liceo. Quest'anno avrò gli esami di maturità. Quando sarò grande, farò l'architetto. Progetterò grandi palazzi dal design avvenieristico. Ecocompatibili e sicuri. Alt'i più delle nuvole. Costruire in sicurezza. Perché i sogni hanno bisogno di stabili fondamenti. E' importante mettere al sicuro la propria vita. Fin da ora, a scuola, il mio futuro è sicuro. Parte da qui. Ciao, io sono Dylan. Quella è la mia scuola. E loro sono i miei amici. Quando sarò grande, sarò un imprenditore. Unirò la mia passione per l'elettronica, la meccanica e l'informatica. Creerò una grande azienda. E progetterò le grandi macchine del futuro. Tecnologia avanzata, in sicurezza. E' importante mettere al sicuro la propria vita. Fin da ora, a scuola. Il futuro è sicuro. Parte da qui.